Più trasparenza sui prezzi grazie ad un'app che mostra la pompa più conveniente in zona e incentivare i gestori ad aggregarsi svincolandosi così dalle grandi compagnie. Questi gli obiettivi di un protocollo d'intese, il primo del genere a livello italiano, siglato tra il presidente della regione toscana Enrico Rossi e le associazioni di categoria dei distributori, Faibe Confesercenti, Figi Sconf Commerce e Figi Cacisla. Dopo la decisione di cancellare a partire dal 1 ottobre l'accisa di 5 centesimi e dopo gli accordi presi nei mesi scorsi per favorire la diffusione delle pompe bianche, la regione compie quindi un altro importante passo per combattere il caro benzina. Nello specifico il protocollo mira sia a favorire l'aggregazione dei gestori in Toscana e il loro riscatto dell'impianto con l'obiettivo di favorire economie di scala, aumentare la loro capacità di acquista all'ingrosso dei carburanti e ottenere alla fine un prezzo finale più basso per gli utenti toscani, sia a rendere più trasparenti i prezzi applicati dai singoli gestori e diffondendo il più possibile la loro conoscenza anche attraverso un applicativo, gratuito, appositamente predisposto, utilizzabile sia su computer che smartphone. Un applicativo che indicherà la distanza dell'impianto dal punto in cui l'utente si trova ed il prezzo praticato, mettendo ai primi posti i distributori con le tariffe migliori. Il sistema è già disponibile in versione di teste, il rilascio ufficiale è previsto entro il mese di ottobre.